Litigio tra stranieri a Battipaglia intervengono i carabinieri per placare gli animi. Si sono registrati momenti di apprezzione e tensione ieri sera in via Pastore. Il fatto di cronaca si sarebbe registrato subito dopo le 18 verso le 18 e 15. A far scattare l'allarme ai residenti, commercianti e persone in sosta nei pressi della vicina stazione ferroviaria, le urla che provenivano da un palazzo nelle vicinanze. Un litigio o qualcosa di più serio, i cittadini a questo punto non hanno atteso oltre ed hanno chiesto ed ottenuto l'intervento di due pattuglie dei carabinieri. I militari giunti nei pressi della stazione ferroviaria nel palazzo indicato in via Pastore dalle segnalazioni della gente si sono subito adoperati per capire cosa stesse accadendo. Le forze dell'ordine si sono ritrovati a dover placare gli animi agitati di alcuni cittadini extracomunitari che all'interno di una delle palazzine ex proprietà delle ferrovie dello Stato sarebbero andati in escandescenza passando dalle urla all'uso delle mani. I militari hanno immediatamente ristabilito l'ordine pubblico e provveduto a verbalizzare quanto accaduto per riferire alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Difficile comunque comprendere le motivazioni del litigio che potrebbero essere scaturite anche per futili motivi. In risiera comunque per verificare che nessuno si fosse fatto male è stata allertata anche un'ambulanza del 118 per soccorrere e curare i contusi. Per fortuna nessun ferito adesso aspetterà gli inquirenti fare a luce su quanto accaduto e verificare anche insieme alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno gli eventuali provvedimenti da prendere nei confronti dei litiganti.